Ultimi giorni di ritiro romano per il Pescara che prosegue il lavoro di richiamo di preparazione in vista della ripresa del campionato fissata tra una settimana. Domani alle 10 amichevole con la Berretti della Lupa Roma. Sul frontemercato l'input è quello di sfoltire la rosa pianificando operazioni in uscita per poi andare a integrare ruoli dove ci sono alcuni vuoti. Il centrocampo e il reparto dove c'è maggiore fermento. Su Birkir, Biarnason c'è l'Empoli e le parti sono sempre più vicine. Tra le due società l'accordo già c'è. L'islandese approderà alla corte di Maurizio Sarri con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Oggi quasi certamente l'incontro tra l'Empoli e la gente di Biarnason. Se si dovesse trovare l'intesa sull'ingaggio il vichingo potrebbe fare le valigie già dai primi giorni della prossima settimana. Prossimo l'addio anche per Gabriel Appelpires che tornerà alla Juventus per poi essere girato nuovamente in prestito. Sul brasiliano c'è l'interesse del Livorno che potrebbe essere metagradita per il giocatore. Sul piede di partenza anche Mattilund Nielsen che tuttavia è legato contrattualmente al Pescara per un altro anno e mezzo. E allora per lui la formula potrebbe essere quella del prestito. Il Trapani è la squadra che ha espresso interesse verso il danese che in Sicilia vorrebbe trovare i mesi del rilancio. Con Memushai, Brugman e Selassie a disposizione le tre partenze saranno compensate da almeno un arrivo. Il nome più caldo è quello di Marco Crimi del Latina, giocatore in grado di mixare qualità e quantità. L'alternativa è l'esperto 33enne Manuel Coppola del Cesena. Altra operazione in entrata sulla quale lavorano gli operatori di mercato biancazzurri è quella legata al terzino sinistro. Con Grillo fuori causa e un Verdoliac tutto da scoprire, il tecnico Baroni ha bisogno di un elemento affidabile come Andrea Rossi che a Pescara ha già giocato ebbene la scorsa stagione il nome del laterale ora al Latina è tornato in auge in queste ore. Al pari di quello del 21enne Nicola Murru, il giocatore non trova spazio al Cagliari e il Pescara spera in un prestito gratuito. L'operazione Murru può essere agevolata da un eventuale placet che il Pescara può dare sempre al Cagliari nell'ambito dell'operazione che porterebbe il difensore Marco Capuano al Catania via Pescara per l'appunto. Difficile arrivare a Cristiano del Grosso, troppo alto l'ingaggio del giocatore di Giulianova.